Cancelliera di un mondo libero da figlia di un pastore luterano della Germania dell'Est al leader incontrastato del vecchio continente a persona dell'anno per la rivista Time. Angela Merkel non finisce mai di stupire e conquista la copertina del prestigioso settimanale americano grazie alla sua leadership nel gestire la crisi dei migranti, quella ucraina e il debito europeo. Al secondo posto troviamo il sanguinario leader dell'Isis al-Baghdadi e al terzo il candidato repubblicano Donald Trump. Odiata, temuta ed ammirata Angela Merkel è capace di scelte discutibili, coraggiose e a volte sorprendenti, decisioni coerenti, comunque sempre fino ad un certo punto come ogni statista deve saper fare in grado di cambiare idea in repentine mutazioni anche nel breve arco di pochi mesi. In una trasmissione televisiva riesce perfino a far piangere una ragazza palestinese che chiede solamente di diventare cittadina tedesca. Nell'immaginario collettivo d'Atene a Roma Angela Merkel assume poi il volto severo della Germania, inflessibile nel rispetto dei conti, paladina dei bilanci in ordine, ma la matrigna di un'Europa fredda e insensibile riesce anche in meravigliose trasformazioni. L'algida Merkel diventa nel finire dell'estate l'angela dei rifugiati siriani. Le porte della Germania d'incanto si aprono al flusso di migliaia di disperati. In ogni scelta di Angela riaffiora sempre il suo passato di ragazza dell'est, nata nella parte sbagliata della Germania, nell'orbita di Mosca, nei bui anni della guerra fredda che sembrano tornare con la crisi ucraina, nella quale la cancelliera tiene testa al presidente russo Putin in un ritorno del confronto tra Kaiser e Zar.